giuste? Allora, devo rimettere, ecco qui, allora l'audio dovreste sentirlo, però vi faccio vedere il nuovo gioco, perché no, quello lì era veramente inguardabile, cioè con tutto il bene però si vedeva veramente tutto storto, mi stava venendo qualcosa agli occhi e vi faccio venire qualcosa agli occhi pure a voi, quindi a questo punto invece di farci venire qualcosa agli occhi vi direi giochiamo qualcosa che non ci fa venire difficoltà, motivo questo gioco è rottissimo ed è ancora peggio, c'è su youtube? Certo che ci sono su youtube, ok dobbiamo aumentare la brightness per fare in modo che il simbolo sia vagamente visibile, la cosa bella è che io l'ho messa al massimo e non vedo il simbolo, quindi è molto bella questa cosa, ok new game, oh almeno un gioco che si vede, dai che belli i giochi che si vedono, li ho sempre desiderati, mi spiace per white day però la risolviamo questa cosa raga, non vi preoccupate, è un anno da quando non vedo più la mia famiglia, dopo l'incidente ero in un ospedale per un sacco di tempo ma comunque non c'era nessuno, quindi mi hanno messo in un ospedale nella città vicino, non mi ricordo niente dell'incidente, mi ricordo solo che ho fatto un fuori pista, ho sviluppato per colpa di questa cosa un disordine, un disordine di stress post-traumatico che mi fa immaginare delle cose e mi fa comportare in maniera strana, è un limì, poi ti spiego, ciao Nicole, non c'è, ah non potevano venirmi a trovare quando stavo in ospedale, va bene, quindi lui si stava arrepigliando, disturbo post-traumatico da stress, ok, eh già ma non ce l'ho The Forest, però l'abbiamo già fatto, vabbè comunque lui c'ha il compleanno della sorella che faceva 16 anni, e va bene, quindi lui voleva andare a trovare la sorella, oh che bello, un gioco con della grafica, è l'ho venina che fine ha fatto, prendiamo il telefonino, ok, vediamo R, messaggi, mia sorella che mi dice, dove sei e come le rispondo? come le rispondo a mia sorella? sto arrivando, le posso mandare un vocale? sto arrivando Samantha, ma voi con la faccia del furbi? mio dio, allora cammino con i piedi di piombo, un gioco della luce più che altro, ok, come fischia? devo attraversare il parco? c'è una mappa del parco piccola, che a quanto pare se faccio così, no non mi fa scrollare, ah ok, così forse accendo la torcia del cellulare, ok, mentre così lo spengo, va bene, come si risponde sempre ai fratelli? un gulo, guarda che telefono, chi è? guarda che telefono bello, dobbiamo attraversare il parco per andare da nostra sorella, se io fossi una persona che sa dove si trova mia sorella, andrei a sinistra, a destra, vado a sinistra, mi sembra un posto giusto per andare, questa lettera è di mamma e papà, che ci fa qui? oh, oh no, mal di testa, non dovevo vedere mia mamma e mio padre, puoi dire alla sorella di scendere il cane? eh, lo dovrò fare, prima o poi, sulla panchina, non c'era nulla sulla panchina, proviamo a camminare di qua, vediamo un pochino, abbiamo trovato però un ricordo di mamma e papà, quindi vuol dire che siamo vicini, qui c'è un pezzo di mappa, e va bene, e poi, buio, nebbia, parco, sì sì, ci mancano solo i drogatelli, poi andrei altrove, è mai il compleanno di nostra sorella, che facciamo, non andiamo, se tu fossi un parco dove nasconderesti tua sorella? qui in cima, ne sono sicura, vedi, un cane ha cacato qui probabilmente, ah ma questo è il parchetto proprio dove si vanno a imboscare i bambini, ok, stiamo facendo il giro, quindi no, la prima panchina all'incrocio, questa? no, perché questa l'abbiamo già vista prima, wu wu, ci sono pure i lupi, non c'era niente su questa panchina, c'è un po' di melma, però non c'è niente di particolarmente, ah no, qui, è un portafortuna, ok, lui io lo volevo regalare alla sorella, ma scusami, ma veramente, ma non hai trovato nemmeno un regalo da fatta a sorella, puoi rimanere lì fino a domani mattina, no raga, se rimango lì fino a domani mattina, poi mi perdo il compleanno di mia sorella, io devo andare al compleanno di mia sorella, i bambini non si imboscano, questo è quello che credete voi, ma in realtà, lo sappiamo tutti che i bambini si imboscano, e come si si imboscano, non credo che mia sorella abiti qui, eh? non lo so, Antares, adesso abbiamo iniziato, però c'è anche un articolo di giornale, che parla proprio del mio incidente, a quanto pare ho fatto un brutto incidente con la macchina, ma non potevo chiamare un Uber, Dio mio, vabbè, proviamo magari a salire, no, non posso salire, sento pure un sacco di insetti, che schifo, cacciano fuori il telefono, vabbè, secondo me mi serve un po' di torcia, sì? era mia sorella? non so se era mia sorella, ho sentito urlare, però credo che ci sia una solo mura qui, quindi, no, quello del presidente non lo possiamo fare, perché si è, si è buggato, non riesco ad andare al secondo capitolo, però quello lì lo riportiamo, appena capisco come funziona, forse devo salire, non posso nemmeno saltare, ah no, queste sono cose per far scendere le pietre, sorellina, ma dove cacchio l'hai fatta sta festa? dove cacchio ti sei andata in buscato, questa festa del merda, io ti ho detto di non scegliere i locali ambigui, Dio mio, vedi un po', vedi un po', se io devo andare pure alle feste delle sorelle, che vanno a fare cose nei parchetti, ah no, siamo tornati all'inizio, bene, da sola di notte al parco in esplorazione, eh ma devo andare al compleanno, ciao Matti, festa di compleanno al centro sociale, stasore la si è imboscata troppo bene, sì no raga, dobbiamo rifare il giro suppongo, perché credo di dover prendere tutti i pezzi di mappa, Permeto? Ci sarà una sorella da qualche parte? Io prima ho sentito urlare, penso che sia una buona cosa, no? Ma almeno un palloncino per dire la festa sta qui, sì è vero, un segnale con le indicazioni, sento solo i lupi, no questo è un gufo, non è un lupo, vabbè è uguale, qui c'è uno scacchi, possiamo giocare a scacchi volendo, ma non ho nessuno con cui giocare, vabbè posso giocare da solo, Pratt proseguire per questa strada, magari c'è qualcosa, nostra sorella se ne sarà andata, ma quella secondo me sta in discoteca, fa la pazza psico, la psichus, vabbè, psicopatica, sì? Chi è che ha fatto le foto? Ehi! Raga qualcuno mi ha fatto una foto, l'ho sentito, sento pure le campane, magari mia sorella si sposa, altro che compleanno, oddio se urla non tanto, e vabbè raga però, almeno si parte da qualcosa, si parte da un urlo magari di gioia, qua vendono delle patatine, le posso regalare delle patatine? Le 21 e 21 con 21 gradi, ah qui c'è un altro fatto, è mia sorella questa? È una bella signora, ah no c'è una signora che è scomparsa, quindi la ragazza è scomparsa, però a noi non c'è interesse, perché tanto noi dobbiamo andare al compleanno di nostra sorella, degli occhiali, sembrano i miei vecchi occhiali, ma perché lui sta trovando tutti i fatti sui per strada? Uh uh, cellulare, forse hai messo in mia sorella che mi sta chiamando, sì, ah no, sta squillando qualche altra cosa, e dov'è sto telefono che squilla? Ah è qua, eccolo, oh raga abbiamo trovato un telefono, ottimo, pronto? Ah, vedi un po' se non è Alex, dove è Sam? non ti preoccupare, Sam è con me, oh no, perché adesso ci sta chiamando un terrorista, vorrei che facessi qualcosa per me, all'entrata del parco c'è una box, una scatola dell'elettricità, hai tre minuti per arrivarci, ma come tre minuti per arrivarci, c'è un rapido nostra sorella, se non ce la fai in tempo, né tu né tua sorella vivrete, oh, ma ti pare mai, ma questa con chi cacchio si è andata a imbuscare, Dio mio, Samantha, mo che torno, altro che festa, facciamo i conti a casa, oh cacchio raga, devo ritornare all'inizio, eh, sto facendo la strada giusta, e che cazzo ne so, tesoro mio, sì dai, questo era il parchetto, quindi sì, non ho mica capito, è una minaccia, hanno rapito mia sorella, questa secondo me, è andata in discoteca, è conosciuta uno, e questo l'ha rapita, io le ho sempre detto, che non si deve fidare, di chi le offre il bagarre di Brizzer, e quella niente, oh, sempre la stessa storia, ce l'hai fatta? Eh, sto qua, sì, mortacci tua, sono arrivato, sto all'em... Oh! Sono arrivato, dov'è? Questa? La vedo, che devo fare? Hai finito il tempo, dici addio a tua sorella, ma non è vero, non sono passati, tre minuti, aia, sorella sconsiderata, no, non c'è il fumo, fermo Matti, devo trovare mia sorella, non si deve dare confidenza, agli sconosciuti, ma ti pare mai? Raga, io lo sapevo, sì, ah, mi sta chiamando, rispondo, Sam, dove sei? Stai bene? Ehi, lo so che non ci sentiamo da un sacco di tempo, però non è che devi urlare così tanto, Alex, ma mi stavano facendo un prank, vabbè dai, ti hanno fatto uscire proprio solo oggi, non ti, non esagerare, mi sono persa nel parco, ok, anche lei era qui al parco, comunque, beh, ho capito, ragazzi, ma compratevi un telefono che funziona, Dio mio, ok, lei era, lei era al parco, comunque, ha detto che era qui, Samantha, seguo le luci, momento Stranger Things, Samantha, stai cercando Alex, Samantha, Samantha? Dove? Samantha? Eh, è Alex un corno, l'unicorno è una creatura leggendaria dal corpo di cavallo con un singolo corno in mezzo all'altro, l'unicorno è tipicamente raffigurato come un cavallo bianco dotato di poteri magici, con un unico lungo corno avvolto a spirale sulla fronte. se volevate sapere come erano gli unicorni, adesso lo sapete, poi non dite che questo canale non vi insegna mai nulla. Ciao Andrea! ero bullizzato, picchiato, ed ero escluso a tutto. Ma io mi sono persa il pezzo per vedermi gli unicorni, mannaggia, bubba! Ah, però mia sorella è sempre stata accanto a me, sta stremmando sul suo canale, decide lei, si fa, lasciatela stare, ogni tanto ho bisogno di parlare. Ok, lui sta parlando del fatto che comunque era bullizzato e la sorella gli stava sempre vicino. E quindi poi per fare il figo si è comprato una bella macchina a 25 anni e poi ci ha fatto l'incidente. Quindi che cosa ci insegna questa storia? Non vi comprate le macchine, basta, andate a piedi. Lui era convinto di saper guidare, però invece poi ha fatto l'incidentone. E mo chi è che gli ha menato? Da bella macchina a bella fisica? Chi è questo mo? Oddio, c'è un drogato. È arrivato un messaggio, chi è? Samantha. Alex, stai bene? Dove sei? Eh, Samantha? Mi scusi? Ha visto una signora con i capelli castani? Mi scusi, mi sente? Oh! Non mi sente. Non mi sente, mannaggia. Ciao Mario! Non bisogna far con... È là! Smettila! Scusi, dovevamo incontrarci e mia sorella qui, però non la trovo. Questo muove Mena. Signore, è tutto a posto? Vabbè, la lascio sola. Buona serata. Io la tengo d'occhio. Tengo d'occhio e non si sa mai. Ciao, Clare... Chi è? Ciao, Claressa! Oddio, di nuovo gli occhi lucidi. È un emo dell'artistico. Ah! Che è successo? È un yoga. Di nuovo che sento urlare. Telefono. Sì? Chi mi sta selezionando? Qualcuno mi ha alitato nel cervello. Ok, dice... Sì? Qualcuno sta camminando con i carretti, raga. Ok, mia sorella ha detto che comunque qualcuno ha staccato la corrente, quindi stiamo andando a ricontrollare la power box di prima. E io non mi ricordo la strada. La droga dà, la droga toglie. Io continuo ad avere problemi agli occhi, di nuovo. Non lo so. Ma perché sei in un parco? È perché questa scema di mia sorella qua mi voleva vedere. Sei l'asmatico del gioco di prima. Poi è un altro con l'enfisema. Mannaggia tutto. Eh, wu, wu. Sì, wu, wu. Ma sto andando nello stesso posto di prima? No, devo tornare... Ah! Mannaggia, le alitate. Devo tornare all'entrata. nostra sorella vuole palesemente ucciderci. Ma, sì. Andiamo a controllare la cassetta della corrente. Cambia sorella. Ah, ci sono delle impronte. Vediamo dove conducono. Ma perché? Aggiusta la cassetta dell'elettricità e abbiamo finito. No, invece andiamo a buttarci nel parco di notte senza fare una chiamata a nostra sorella perché il cellulare non le prende mai a quella rincoglionita. Salve! Ok, il suo stato mentale si deteriora ogni volta che passa il tempo e poi lui comincia a sta male. Comincia ad avere un po' di broncopolmonite. Devo tenere premuto spazio per sentirmi meglio. Oh, mi sento meglio. Che bello. Ok. Salve! C'è qualcuno? Ecco, ma al solito un manichino. Non sia mai. Ok, c'è il controllo dell'elettricità. Li alzo tutti? No, P. Ah, ne manca uno, manca quello rosso. Ok, quindi qualcuno ha sabotato la cassetta dell'elettricità. ok, seguiamo le impronte quindi a questo punto. Sì, no, porto un po' di tutto comunque, non è che porto solo horror, dipende dal caso. Ci sono dei momenti in cui porto altra roba, dei momenti in cui porto horror. Andiamo, ma io avrei appeso mia sorella easy. Ma ragazzi, ma anche io, cioè io col cazzo che ci andavo al compleanno. Ah, bello, portano un container. Nitta, noi siamo un cretino che ha gli attacchi d'asma e che la sorella l'ha invitata al compleanno, soltanto che non c'era niente. No, mi hanno chiuso dentro. Mi fate uscire? Per favore? Fatemi uscire, mi prego. Mi stanno portando al macello. Sì? Basta sbattere! Eeeh! Ma stusce... Ha finito? Non calcio io! Eeeh! Eeeh! Esatto, Nitta. 1.1 modo per farsi ammazzare. Eh, ma non è colpa mia. mi hanno chiuso dentro. Che paura. Ok, torniamo di qua. Andiamo indietro. Eeeh, di qua, ok. posso entrare? Non è che mi aiutano dentro pure qui? Aiuto? Ok. Rattiviamo la corrente. No. Ah, devo forse... No, viola, verde, giallo, blu e rosso. Come faccio a trovare la combinazione? Mi serve una combinazione a quanto pare. Aha! rosso, verde e giallo. Credo. Allora, lei, signore con l'asma, lei deve stare molto calmo. Dio mio, ogni volta, con sto cazzo di asma, posso posare? Rosso, verde e giallo. I colori Power Rangers. Allora, rosso, verde e giallo. No, ho sbagliato. Non sono i colori Power Rangers. Sono le 21.50, tengo sonno. È vero. Dobbiamo salvare il parco. Jimmy, Timmy e Lenny. Oh, santo, l'apocalisse. Cos'è che devo capire qui? Jimmy, Timmy e Lenny. Il 9 giugno, il 10 giugno e l'11 giugno. Io intanto sto respirando, duro, perché non si sa mai. Quindi, Jimmy è verde, Timmy e Lenny. Quindi è verde, rosso, giallo. Verde, rosso, giallo. Allora, verde, rosso, giallo. Fatto. Fatto, amici. Funziona. Ah, Samantha, mia sorella. Ok, sei riuscita a ripristinare la corrente. Ci vediamo alla cabina telefonica. Ma qual cabina telefonica? Samara, io non so nemmeno dove cazzo sta la cabina telefonica. ma Dio mio, ma perché? E niente. Ancora che urla la ragazza qui. Dove sarà la cabina telefonica? Esistono le cabine? E magari in questo parco sì, si chiama ancora al telefono, come i vecchi templi. Vabbè, andiamo di qua, vediamo un pochino. Prima a controllare di qua. Non sai dove stai te, che è meglio. Aspetta, però. No, raga, se vedete una cabina del telefono, urlate qualcosa. Proprio qualcosa dovete urlare. Ma non mi poteva dare una mappa? Ciao, Vittoria! Benvenuta! Non puoi mandare la posizione al posto? No, raga, questa ancora mia alida non addosso. Non puoi mandare la posizione questa rincoglionita di mia sorella? Qualcosa! Non è vero, non c'è. Non c'è nessuna cabina telefonica. Sarà di... Ah, ah! Questa stato c'è sempre stata? Jasmine Singer? Ma siamo sicuri che io venivo da qui? Ma... C'è scritto forse nelle indicazioni? Pond? Street War? Street War Car? Pond? Forse è qui? James Pond? Ci sarà una cabina, no? Se io voglio fare una chiamata non è che devo andare in mezzo al parco? C'è un dis... Sì, dica! Anzi, mi di meno. Mortacci sua. Raga, io non... Quella statua non c'era prima. Vedete? Oh! Ho sentito... Eh? Uh! Eccola! Eccola, raga! Allora, mi calmo un attimo. James Pond, cos'è? Alla signora ne hanno fatti i baffi. Rispondo. Pronto? Sei patetico, Alex. Stai scappando dalla realtà. Che significa? Chi sei? Ehi, ma che vuò questo mo? L'incidente avrebbe dovuto ucciderti, Alex. Sei un caso perso, un fallimento. Ehi, smettila di parlare con mia mamma. Ma chi sei? Ancora? Lo scoprirei presto. Vabbè, avranno sbagliato numero. Ma mo mia sorella dove facci ma sta? Mamma! Con la powerhouse dove? Santo popaldo! E corri forest, corri! Raga, io non so dov'è. Scappo! È partito Pippo! Sì, scusate! Mi sono cagata sotto! Ho fatto la cacca, scusatemi! Devo andare a scappare dove ero prima, però non mi ricordo dove ero prima, quindi per me è un nuovo logo var... Sì? Vabbè, allora tutto a posto. Ah! Mi sono cagata sotto. Non ho visto niente, ero distratta. Era un uomo con la faccia da... sciolta, tipo... Ancora che urlano... Madonna Samantha, ti giuro, appena ti vedo ti faccio una faccia di schiaffi. No, devo tornare indietro, non è di qua. Facile, sì. No, non l'ho visto, De Nann, non ho visto nemmeno il primo, in realtà, perché non sono amante delle suore. Devo ritornare all'inizio, perché c'erano i piedi. Devo seguire i piedi. I piedi! I piedi corrono! Ah! Santa polpetta addolorata! Ah! Apri! E quindi che devo fare? Mi sta avvenendo un infarto. Credo di abbia ritrovato. Eh, ma mi sta avvenendo un infarto, vedi, a questo gli viene il fiadone. Dove mi nascondo? Eh, raga, ma io non lo so dove mi devo nascondere. Ok. Devo chiamare Sam. Samantha? Samantha? Sì? Sam, ascoltami, c'è qualcuno che è nel parco, non so chi sia, però ha un coltello e mi sta seguendo. mi stavo cercando di nascondere alla powerhouse, però è chiusa. Ha trovato qualcosa che sembra una chiave. Ha detto che è nello street workout. E dove cacchio sta sto street workout? Samantha, ma perché non te stai ferma in un posto? Mortacci tua! Dov'è il mosto street workout? Io l'avevo visto prima. Ora, se andiamo alla James Pond, può essere che ritroviamo la strada. Che ansia! Tu napoletana mi fa sentire a casa. Sei napoletana anche tu, Vittoria. E allora qui ti sentirei molto per... Arca! No, non tu, ho sentito il rumore, scusa. Dov'era sto stream workout? Ciao, stilgaro capina! Constriction entrance not! Entrance not! No, e io forse devo andare all'entrata? Che ha detto che stava questo street workout, ma non so. Ciao, capina! Maldigo la tosse malanno fastidioso! madonna mia, io pure odio il mal di gola incredibilmente! Basta! Alitarmi sul culo! Avete rotto le palle! Fon buff! Ziff! Ho fatto cadere un bidone della munnezza. Uh! Però questo è bello! Una mappa! Questa può essere utile. Posso prendermi una roba da bere? È il punto con gli attrezzi. Ok. Grazie, Nicole! Il punto con gli attrezzi? Ma gli attrezzi quelli lì dei bambini! Mi sto facendo una maschera sfoliante tanto per calmare i sensi di questa live. Voglio pure io una maschera che sfolia. Perché devono sempre alitarti addosso? È forse perché vogliono farmi sentire Ciao White! Buon pomeriggio! Forse perché vogliono farti sentire il benessere che ti vogliono. Prende una lattina di Pepsi che la lancia al maniaco. Sì, a questo gli sta venendo il fiatone ogni cinque secondi. Memorial. Cioè, ma trovo tutto tranne il parchetto dei bambini. Guardalo. Guardalo che mo' trovo tutto tranne quello. Cioè, Ciao Cruella! Ci sono sempre anche se non scrivo. Mua! L'importante è che stai bene. Sono giostre, non attrezzi. Eh, appunto! Devo andare al parchetto delle giostre. Quella che hai definito parco giochi ma è una palestra all'aperto. Ah, non sono le giostrine? Io pensavo fossero le giostrine. Chi è che ha fischiato? Wey! Ok, ha detto che la chiave dovrebbe essere qui intorno. Sì, ma mia sorella dove cacchio sta? Samantha, madonna se ti abboffo di vaccheri. Veramente ti abboffo di vaccheri. Ok, ho trovato la chiave. Adesso mi devo andare a nascondere nella Power A. ok? Basta! Maniaco! Buzzurro! Mi lasci! Scostumato! Cafone! Ignorante! Farabutto! Da! Chiamo il mio avvocato! Corro! 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 Non può aprire la mappa che abbiamo trovato nel cestino? No, perché la devo attaccare sul muro. Raga, scappo! Sono le 22 fra l'altro. Il compleanno ormai è finito. Ok. Uh! Voilà! Sono chiuso dentro. Tutto a posto. Ehi, ancora con sto alido. Vattene via! c'è la paura. Non vedo nulla però. Ah, io sto continuando a chiamare mia sorella. Ciao, Termos! Ciao, amici! Benvenutissimi! Buon martedì! Marco, sei tu? Io lo chiedo sempre per... Un attimo ascolto questa cosa e sono subito da voi. Sono bloccata. Ok, stiamo dicendo a nostra sorella se ci vuole raggiungere qui. Lei sta arrivando. Hai detto apri la porta quando arrivo. Sei col cazzo proprio. Sama, cioè, mo mi devi dire che sei Samantha, mi devi dire tutto quello che hai passato. Grazie mille per il ride! Mua! Benvenutissimi! Oggi è stata una giornata infernale. Dovevamo giocare White Day 2 e non ha funzionato una minchia. Abbiamo giocato un gioco che puzzava di aceto e quindi l'abbiamo chiuso e adesso stiamo giocando Psyche e noi siamo Giovanni, un ragazzo chi è? Che doveva andare a compagno nella sorella però si è perso nel parco. Grazie mille. Si può fare uno thought? Ti è stato fatto? Ancora? Ce la fai a scrivere il titolo? È difficile scrivere il titolo di sto coso, eh? Samantha? Sei tu? Ma io non non apro. Cioè, ciao Tano! Grazie mille per la compagnia. Alex, è me puoi aprire la porta? questo è l'assassino. Questo è l'assassino. Alex, sei qui? Apri la porta. Non la apro. No, raga, io la faccio schiattare lì. È lei che mi ha invitata in sto parchetto? Sì, ma va, va, fatti ammazzata al killer. Ciao. Apri, ah, no, io ho paura. sì, però anche meno alito, cioè, meno alito. Forza versa. Ciao, Luca! Bentornos per quattro me. Aspetta che mi sta avvenendo l'infarto. Samantha? Samantha? Sì, Alessandra, è su YouTube, il canale è su YouTube, cercate su YouTube Yucali Twitch, c'è tutto il canale con tutti i video di Amanda. Oddio, è morta. Oddio, l'ho uccisa. Oddio, è finita. Samantha? Oddio. Apro. Chiamare la polizia? No, eh, ma non mi funziona il telefono, non dovevo aprire. Vabbè, lui comunque ha avuto, ha cominciato ad avere le alluvioni, le allucinazioni, le alluvioni. Ho brutti ricordi del tempo trascorso in ospedale e gli venivano sempre gli incubi. Vabbè, ho capito. Grazie, Alessandra! mi sentivo un criminale. Gli pioveva in casa con le alluvioni. Eh, nell'ospedale era sempre un'alluvione continua. Quando White Day da capo poteva essere una migliore scelta. Eh, ma killer, ma quasi qua. Ah, ma quindi sono una persona meglio adesso? Forse era un incubo. Aspetta che forse era un incubo, eh? Era un incubo, raga! Mia sorella non mi avrebbe mai invitato al compleanno in un parchetto di notte, dai! Era veramente da stronzi. Madonna mia, se veramente siamo degli maiali luridi con sto piatto incrostato. Ciao, Samà, facciamole gli auguri per il compleanno. Le 7.20 di mattina ma sta dormendo la ragazza? Vabbè, facciamole gli auguri. Sogno premonitore, no! È occupata. No, te so, sta dormendo sulle 7.21. Ha bisogno del caffè, mi sembra anche giusto. Andiamoci a fare sto caffè, va? Oh, che bello, c'ha pure la tavola. Perfetta. Abbiamo tutto, prendiamo pure le chiavi di casa. Però, che casetta! Sembra uscita da Ikea. Guarda lì. Proprio la casa perfetta. Guarda lì, la casa di Ikea. bellissima. Allora, se io fossi un caffettiere, come mi farei il caffè? Prendo una tazza, la metto qui, premo il pulsante. Fatto! Non servono le cialde? Grazie mille, per il like. Sembra la caff... Raga, ma non funziona... Samantha! Eccola qua. Ma non mi funziona il caff... La caffettiera. Ho rotto la caffettiera. Ah, ok. Mi hai chiamato, che c'è? Vabbè, ma ti faccio gli auguri di compleanno. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sam. Happy birthday to you. Madonna che cringe. Però... grazie mille, Alex. Non avrei pensato mai di sentirti cantare. Va bene. Mr. T, grazie mille per la sabba, Stilgar e Cappina. Anzi, a Cappina in questo caso perché è lei con noi. Ah, ok, lei ha detto se... ha lasciato qui, il... Oddio, il caffè! Mannaggia, buba! Ma ci ho scordato, eh? Ho bruciato il caffè. Ok, no, tappo, sei spentata sola. Grazie mille per la sabba, Mr. T! Mua! A quanto pare mia sorella si è scordata le mutande a casa mia. Devo trovargliele. E io dove le posso aver messe? Cioè, scusami. Non siamo esperti di caffè come Marcus. È vero, eh, posso dire che sono abbastanza ma che schifo di casa, ma guarda lì, ma quanti piatti sporchi, ma non lavo dal 32 questi piatti. Guarda che lungo quel caffè, ma a noi piacciono lunghi. E dove cacchio stanno? Dove può essere uno zaino? È la casa questa, eh? c'è. Almeno lui ha pulito la macchinetta del caffè. Siamo sicuri sia la sorella? La sorella... Ah, eccolo! Trovato! Vuoi venire a prendertelo prima di venire a scuola? Ok, vengo lì tra 20 minuti. c'ho pure una sorpresa per te. Ok. Le ha regalato una macchina? Oh no, le ha regalato una macchina. Sì, ma puliamo, nostra sorella sarà qui tra poco, dai. Per il sedicesimo compleanno, siamo americani. Oh! Una bella tazza di caffè che è bello iniziare la mattina così. Dovrei controllare le email e mi sembra anche giusto. Ho 122 computer quindi non so in quale controllare le mie email ma forse io che sono un tipo che posso posare questo coso? Posso posare questa merda di caffè? Ora la uccide? No, dai. Basta bere. Posa questo caffè. Ah, la posta devo controllare. Ok. Ok. Vabbè, gli stanno facendo il trasferimento per farlo diventare un suonatore di ciotole. Credo che il suo sogno nella vita... Aia! No, di nuovo il mal di testa. Il killer sei dei plot twist. Le regala la macchina alla sorella lavora e non lava i piatti. Che persona strana. È veramente una persona strana. Devo prendere le pillole per il mal di testa. Allora, se io fossi una pillola mi metterei in bagno? No, invece io non le metto in bagno le pillole. Io le metto altrove perché sono uno che le pillole le mette altrove. Dove cacchio le ho messe queste pillole? Chi scoreggia? Ah, è il vicino di casa che sta trapanando. E dai, va pure qui! Che due coglioni! Basta! Io chiamo l'amministratore di condominio poi ci sentiamo, eh. Poi mi sente. Poi mi sente con l'amministratore di condominio. scendiamo pure un po' la radio. Spegniamo la radio. Non voglio sentirla mai più. Ho già mal di testa e non è il caso. Che pillole cerchi? Giuro non il Viagra ma le mie pillole per il mal di testa che non le trovo. Ah, eccole. Voilà! Fatto! Una persecuzione come nella realtà. sì, ma le ho ingoiate senza dell'acqua. Mi dovrei distendere per un momento. Ma come te cannappo? Ma ti sei appena svegliato? Vabbò, dormiamo. Ma ora arriva la nostra sorella e non ci trova. Non lo so. Io non lo so. mi sembra un po' sovradosaggio. Sì, lui ha ingurgitato mezzo barattolo di pillole senza di mie... No, dai, ti prego, mi sono addormentato e mi sono svegliato di nuovo nell'incubo. Devo richiamare Sam. No, la batteria scarica. Ma che schifo di vita. Samanda? Sam? E' all'entrata sud. Ok, devo andare all'entrata sud, raga. Non so dove sia il sud. Però va bene. Dalle fognature. E io, allora, la mia posizione è quella. E qui sono a sud. Devo andare a qua, di qua. No, non c'è una strada di qua. Se la mia posizione... Ah, io non c'è... Ah, no, è lì. E io sono già a sud allora. Scusami, dov'è l'entrata sud? Una vita parallela? Non lo so. Non ho capito. Vediamo un attimo le segnalazioni. Street entrance out. Entrance out è questa. Scusami, è questa entrance out. vada come gamberi in padella. Forse è qui dietro? Cioè, forse le segature sono... È da qui che si entra? Ok, devo spostare questo container per entrare... Ah, per entrare sotto qui! Nelle fognature! Ho bisogno di una torcia. E meno male che questo killer l'ha lasciata qui, va. Apriamo e scendiamo. Ma io dove sto andando in questo sogno? Perché sta andando sempre peggio? Niente droghe prima di dormire. Vedete, voi fate questi sogni? Non mi sembra il caso. Non lo fate. Diventiamo le tartarughe ninja? Ah, però è arredato bene. Le fognature posso dire che comunque sono arredate bene per essere fognature? Samantha? Sono qui! Eh, sì, seguiamo la voce, ma? è tutto buio. E ho di nuovo mal di testa, mannaggia. Sto mal di testa brutto che mi viene ogni volta che entro nelle fognature. Samantha? No, sento più a questa. C per crociarmi. Mi croccio. Vediamo, sono... sì, sì, sto arrivando, ma non è che mi metto a correre per te, eh, non ci entravi nelle fognature? Hanno pure i bidoni della munnezza. Come siamo arrivati di nuovo qui? No, giuro... giuro che è un altro gioco. Samantha? 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 Signore? Mi sente? Non è Samantha? Oddio, un signore drogato! Però era drogato bene, guarda lì. Sta facendo pure il gesto della... piglia di questo, non alla droga, altrimenti, vedete, finite come il signore, con gli occhiali e la barba in una fognatura. Io non lo farei. Non lo farei. Era un signore elegante. Non credo sia Samantha. No, penso anch'io di no. Però poteva essere. Metti mai. Samantha? Sto sognando, vero? Eh, scus... No, spero che stai sognando. Sembra stare meglio di me. Samantha? Samantha, sei giù? Mi chiudo la porta dietro. Samantha? E manca pure, scompaiono pure le persone nelle fognatozze. No, qui non ci sta... È ancora, costalitosi. Samantha! Però se non mi parli, io non sento. Mi mamma dice sempre di prendere un momento lo sai mal di testa. Eh, lui pure ha avuto un sacco di mal di testa, eh. Lascia, lascia che ne ha avuto di mal... Ma perché la sento sempre più lontano? Samantha, sto arrivando! Oddio, chi è quello? Sarà Samantha? E io non va... Devo andare dove ha corso quello? Io non so se era Samantha. Samantha? Non lo so. Io sto seguendo il drogato di prima. Spero di aver fatto la scelta giusta. annaggia, sto mal di testa. Eh, ok, è lì. Quindi stava correndo lei. Che mi ridi. Ah, se ma... se ma andà? Se ma andà? Se vuoi? Ora ci arriva un coccolone. Io spero di... No. Ehi! Cosa? Allora, alla fine, all'inizio... All'improvviso un russo. È un tedesco e un russo. Sembra l'inizio di una barzelletta. Oh, sucalo verdi! Ciao, Anita! Le babucce! Parlano delle babucce! Di che stavano a parlare sti due? Ma io perché mi sono sentita un tedesco e un russo pigliarsi a pugni? se Amanda non ha la violenza e lo so a meno che tu non sia tedesco o russo. Ciao, Aru! Buon poeriggio! In quel caso... Ah! Il rumore del sugo! Calmi, signori! Dove ti stai nascondendo? Chi era questa che parlava? potrebbe essere un inizio della barzelletta della pub? Sì, vero. Signora! Aspetti! Scusi un attimo! Ho visto mia sorella! Signora! Signora, scusi un attimo! Eh, sì! Oddio, aspetta, ho di nuovo la difficoltà. Dov'è la signora che piange? Signora? eh! Per caso ho visto mia... Mannaggia però! C'ho le visioni! Ok, io ho aperto una porta. Non so che porta ho aperto, però qualcosa l'avrò aperto. Lì, dove c'è la luce verde. Credo che sia questo il posto. Siamo andata? Ma come? La sua è un meccanismo la blocca. È quello verde, no? Forse devo sbloccarla al rosso per far passare. Non so nemmeno chi sia, Matthew, in realtà. Ah no, qui per forza non posso più fare niente. Ma come se avanti è morta? Attira un calcio al cancello. No, raga, non si picchiano i cancelli. Non la violenza sui cancelli, per favore. Oh no, mi sono bloccata nelle segature. Ah, aspetta! Ah! Ok. Ah! Scusate, sono svenuto per un attimo. Ancora una. Va bene, quindi dobbiamo sbloccare tre. qui in fondo vedo una lucina rossa. Magari è qui? Forse ce ne sono altri, sì, credo che forse sia questa. Eccola qua. Ah! Ti prego, dimmi che ormai si è aperto. Andiamo in fondo. Altri due? dai, tre è il numero perfetto. Pronti al coccolone? Non è... Nessuno coccoli, nessuno. Raga, scusami, ma erano tre? Erano tre palle. raga, io non lo so. Vabbè, andiamo via. Andiamo via. Non è che qualcuno le spegne? Sì, raga, sono a tempo. Sono a tempo, mortacci. Sono tre, ma sono a tempo. carri! Carri! Io non mi ricordo nemmeno dove sto! Nene! Due! Eh! Il fiatone! Poi ce n'era un'altra qui dentro, mi pare, al centro. tre! Aperta? Dai, l'ho aperta. A tempo di musica. Ciao, Ghibri! Ciao, Ale! Sì, Samantha, ti sto cercando, però, mortacci tua, ti prego. Non è così che si vive la vita. Sto correndo. Allora, adesso ho toccato delle... No! Allora, raga, c'è la vaga possibilità... Ok, no, sta a posto. C'era la vaga possibilità che potevo essermi incastrata. se v'andà? Samantha, ti prego! Non so perché ho uno strano presentimento. Sì, ho come l'impressione mia sorella e non la proveremo. Uè, uè, uè. C'è una signora che dice uè, uè, uè. Vediamo. Signora? Oddio. Di nuovo un'altra porta? Eh, anche questa è chiusa. Deve esserci un'altra strada. Va bene, allora andiamo di qua. Where did he go? Where did he go? Eh, se solo ci fossimo incontrati al parco tutto questo non sarebbe successo. Senti, Alex, dici anche che tua sorella è rincoglionita e ti dà appuntamento in un parco in cui si vanno a drogare e vanno a spacciare droga. Cioè, diciamo le cose come stanno. Ma scusami, stiamo andando nella parte sbagliata. Sì. Perché in realtà devo andare forse di qua. Oppure ho fatto il giro? Secondo me ho fatto il giro. Ho come l'impressione di aver fatto il giro. Sì. Stiamo tornando indietro. Sì, la sì. Però io sto facendo il giro qua. Se non ti drogassi anche tu, Alex, mannaggia. dite no alla droga. Poi, vedete questi suoi sogni che fate? Io continuo a guardarmi a destra e a sinistra perché non si sa mai. Ho bisogno di qualcosa per arrivare lì sopra. E tieni 157 bidoni. Maronna, Alex, però pure tu. Che palle di ragazzo che sei. te, pigliati il pallet. Abbiamo uno scatolone. Uno di questi tu, così, non va bene. Stai sempre a rompere le meningi. Basta che fai chiocciolale e puoi scrivere il nome e lo taghi. Eh, questa scatola non va bene. Dai, Alex, però pure tu. Ti prego. Ti prego. Questa? Sto barilotto, non possiamo. Vabbè, ho capito, ma il ragazzo non vuole niente. Che bisogno che ci dai? Eh, raga, ma non va. Dice che ha bisogno di qualcosa, ma non so cosa. Cioè, non so di personalmente, forse vuole una scala o come la vaga impressione che voglia una scala. Perché ogni tanto chiudo gli occhi appare un cervello perché lui va in panico e quindi per recuperare la stamina deve chiudere gli occhi e respirare. Forse dobbiamo prendere una scala, ma io non l'ho mai vista una scala in queste fognature. Ma ce la troviamo di faccia. Ciao Jasmine. Indietro c'era una sedia. Dove? Ciao Vanessa. C'era una sedia dove? Aspetta. Dove avete visto una sedia? Qui dentro? No, ci sono i scatoloni, scatoloni, legna, dove sei andata prima? E sta andando uguale. ci sono i dubbi? Altre scatole? C'è una cascetta di pomarole? Credo di star girando in tondo. E ma io non vedo più un culo. Aspetta. Non so dove devo andare. Non so dove devo andare, però. Forse lì? No. Non lo so. Aspetta. Devo andare... Dove c'era il buco? Dov'era il buco? Qui. Uh! Ok, posso salire? Ok. Seguo la luce? Cade quando ha la sedia. Il mio tessoro. Ma io sto andando giusto? Non ho mica capito se sto andando giusto. Verso l'infinito e oltre. Io aspetto che salviamo comunque amici e poi dopo stacchiamo, eh. Questo magari lo continuiamo la prossima volta. Permesso. Permesso. Samanda! Samanda! Ci siamo, Samanda? Ciao, Ross! Grazie mille per il ride! Ciao, amici! Benvenuti! Stiamo giocando Psyche! Un gioco che non dovevamo giocare. Abbiamo perso la nostra sorella e dobbiamo ricordarci dove l'abbiamo lasciata. E niente. Si può fare uno shout? Eccola qua. Samanda! Samanda! Samanda? Nelle macchine qui? Boh, chi lo so? Chi lo sa? Non lo so. Ah, però c'è una mappa. Ok. C'è la mappa delle fognature. Io dico che da qui eh, io dico che da qui noi ci possiamo fermare. Quindi io come al solito, amici, stacco un attimo prima TikTok. Però ricordo a TikTok, amici, noi ci vediamo anche domani pomeriggio intorno alle 16... che cosa urla? Intorno alle 17. e mi raccomando se volete ho due canali YouTube dove metto gameplay sia dei giochi che portiamo in live sia di video sempre di giochi editati che si chiamano Yucali-Chan e Yucali-Twitch se no, se volete mi trovate su Instagram come Yucali89. Noi ci vediamo domani pomeriggio intorno alle 17.30 più o meno 18 su TikTok però se volete alle 17 noi iniziamo sempre live su Twitch quindi ci vediamo su Twitch con il canale Yucali. Grazie mille per la compagnia. Ci vediamo domani pomeriggio e grazie mille buon pomeriggio. Ciao amici. Ciao. Voilà. si blocca si blocca si blocca non si blocca fermo ciao Lerigan entro in scivolata in chiusura mi chiudi mi chiudi pure sì vabbè ma quanto rumore per nulla dai questo qui quanto